namaste yogis sono barbara beltrani e qui dalla bellissima sala bosco dell'hotel carlo magno dell'edrea di madonna di campiglio vi do il benvenuto al giorno 9 del nostro fit flow challenge siamo già arrivati praticamente a metà strada e sono contentissima di vedere che siete in tantissimi a continuare col challenge ad aggiungervi ogni giorno è incredibile il risultato che questo challenge sta portando in termini di partecipanti e sono proprio felicissima di praticare insieme a tutti voi oggi ci dedichiamo alle braccia e le spalle so che non è una delle lezioni più semplici nella nostra settimana ma sapete quanto ci fa bene lavorare su questa parte del corpo andiamo subito a cominciare se li avete a disposizione tenete dei mattoncini a portata di mano e vi siete già registrati sul mio canale youtube se non l'avete fatto fatelo subito cliccate la campanella per ricevere tutte le notifiche iniziamo subito il flow andiamo subito a cominciare a iniziamo la nostra pratica di oggi in child pose la posizione di balasana ginocchia alla distanza del tappetino unite gli alluci sedetevi sui talloni allungate bene il busto portate la fronte a terra il petto verso terra vi consiglio di tenere le braccia distese davanti a voi per cominciare a fare anche un bel lavoro di apertura nelle nostre spalle ci servirà per la pratica di oggi chiudete gli occhi una bella ispirazione dal naso aprite la bocca cominciamo il nostro flow ammorbidendo il corpo rilassando la muscolatura rilassando tutto il nostro essere quindi partiamo dal corpo ma arriviamo anche ad alleggerire un pochino la mente in questa ora possiamo dedicarci completamente a noi stessi al momento presente quindi possiamo mettere in stand by tutti i pensieri le preoccupazioni le cose da fare può essere che se riusciamo a metterle da parte per questa ora quando ci ritorneremo con la testa avranno tutta un'altra avranno tutta un'altra percezione magari ci renderemo conto che non erano così urgenti che possiamo lasciare andare un pochino inspirate dal naso ed espirate sempre dal naso con la mente cominciate a seguire il movimento del respiro lasciate che il respiro vi dia il ritmo che fluisca naturalmente cerchete solo di renderlo profondo ricordate l'importanza di respirare a fondo riempire bene tutti i polmoni creiamo spazio nell'area del petto nell'area del cuore sciogliete bene la muscolatura sciogliete è qualsiasi zona dove sentite tensione e piano piano cominciate con le mani a camminare verso destra allungando bene restate bassi allungate bene il lato sinistro del corpo e poi andiamo verso sinistra tornando al centro mani a terra ispirandoci portiamo in quadrupedia chiudete un pochino le ginocchia portatele alla distanza delle anche ginocchia sotto le anche polsi sotto le spalle facciamo i nostri gatto mucca sapete a me piace iniziare muovendo come prima cosa la spina dorsale inspirando aprite bene aprite le clavicole guardate avanti ispirando arrotondate coccigi all'ombelico inspirando aprite ispirando arrotondate respingete il tappetino con le mani separate il più possibile le scapole dietro la schiena ispirando aprite ispirando respingete focalizzatevi sulle scapole sulle spalle apritele bene ultima volta ispirando aprite ispirando portiamo la schiena in posizione neutra facciamo qualche esercizio di riscaldamento per i polsi per le mani visto che lavorando sulle braccia e sulle spalle andremo tantissimo a stare sulle nostre mani portate le mani con i polsi che si guardano le dita delle mani rivolte sui lati esterni del tappetino e cominciate a muovervi a destra e a sinistra portate il peso prima a destra poi a sinistra mentre lo fate cercate di sentire il peso del corpo che va su tutta la mano su cui si appoggia quindi spostate il peso dal polso a distribuirlo su tutta la mano facciamo qualche altra volta e poi girate le dita ancora in avanti e facciamo qualche cerchio cominciate girando verso destra andate bene indietro anche qui quando venite avanti peso sulle dita venite indietro peso sui polsi distribuite bene tutto il peso sulla mano come quando state in piedi pensate se quando siete in piedi tutto il peso forse sempre sui talloni come sarebbe difficile tenere l'equilibrio e a lungo andare il dolore e gli infortuni che questo comporterebbe con le mani è la stessa cosa cambiate direzione dobbiamo imparare a distribuire bene il peso su tutte le mani per riuscire a trovare l'equilibrio e la forza per sostenerci anche sulle mani tornate al centro portate le dita delle mani all'indietro quindi le dita guardano le ginocchia se sentite già una certa intensità potete rimanere qui se sentite che c'è spazio potete cominciare a sedervi sui talloni piano piano sollevare i palmi e venire avanti lo facciamo 4-5 volte andate piano piano sentite fino a dove volete arrivare e poi piano piano tornate al centro questa volta portiamo i palmi in alto quindi andate a portare il peso sui polsi ma i palmi sono rivolti verso l'alto e anche qui potete stare qui oppure muovervi gentilmente piano piano inizialmente sarà una sensazione abbastanza strana quasi un pochino spaventosa per cui andate piano piano e piano piano poi rigiriamo di nuovo le mani ci sediamo un secondo sui talloni e da qui incrociate le dita delle mani portate i palmi a toccarsi e fate qualche cerchio coi polsi ruotate bene i polsi prima in una direzione poi nell'altra distendete le braccia davanti a voi muovete velocemente le dita tenete le braccia distese aprite un pochino le scapole dietro la schiena sentite gli avambracci che iniziano ad attivarsi ancora qualche respiro e poi sciogliete siamo pronti per cominciare il nostro flow ci risediamo in balasana inspirate ispirando venite avanti portate le spalle sopra i polsi state sulle ginocchia tenete i piedi sollevati il corpo in asse andiamo a fare dieci volte un chaturanga quindi ci pieghiamo con i gomiti vicino al busto ci fermiamo a metà strada e ci risolleviamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci ci riportiamo nella posizione di balasana puntate le punte delle dita dei piedi inspirate espirate saliamo nel nostro cane faccia in giù se c'è bisogno tenete per un istante le ginocchia piegate il focus sono le braccia quindi facciamo attenzione a come utilizziamo le braccia in questa posizione spingete bene utilizzate tutta l'area della mano per spingere il bacino in alto aprite bene le scapole dietro la schiena attivate bene l'addome bicipiti girano verso le orecchie e poi piano piano distendete le gambe addome attivo chiudete un pochino le costole nella parte anteriore del corpo e da qui inspirando guardate avanti sollevate la gamba destra da terra gamba destra ruotata internamente bacino neutro espirando venite avanti ginocchio al petto piede destro vicino la mano destra inspirando ci solleviamo in un affondo alto siamo qua qualche respiro il bacino rivolto in avanti gamba davanti a 90 gradi siete sulle punte del piede sinistro se c'è bisogno piegate leggermente il ginocchio sinistro allungate bene i lati del busto ma cercate di tenere l'addome attivo quindi aprite un pochino le scapole dietro la schiena ombelico in dentro chiudete un po' le costole inspirando allungate girate le mani palmi rivolti in avanti chiudete inspirando aprite le braccia di lato come se voleste fare una forma a cactus e aprite il petto inspirate espirando chiudete aprite le scapole dietro di voi inspirando aprite inspirando braccia in alto ancora una volta inspirando aprite espirando chiudete fate forza i gomiti si toccano ispirando aprite espirando sollevate portate le braccia davanti a voi la sinistra va sopra la destra, incrociate, spingete i gomiti in alto, aprite bene le scapole dietro di voi e poi piano piano iniziate a portare il bussino avanti, quando siete pronti avete l'equilibrio, venite nel guerriero 3 con le braccia incrociate, stiamo qua un paio di respiri, ispirando il ginocchio sinistro al petto, incrociate la gamba sinistra sopra la destra sedetevi col bacino, incrociate le gambe, il bacino va verso terra, i gomiti si sollevano in alto ispirando, riportate il ginocchio al petto, lo riportiamo in fondo al tappetino, aprite le braccia, mani in alto ispirate, ispirando, mani dietro la schiena, incrociate i palmi, ispirando, tiratele bene verso il basso, aprite il petto ispirando portate le braccia in alto, ispirando, mani a terra, troviamo la nostra tavola attivi nelle braccia, respingete il tappetino, aprite un pochino le scapole, corpo in asse se c'è bisogno le ginocchia vengono a terra, restiamo qualche istante qui, focalizzatevi sulle braccia e sulle spalle addome super attivo, ispirando, venite leggermente avanti, ispirando, piano piano piegate i gomiti, venite giù a metà strada ispirando, distendete le braccia, aprite il petto, guardate avanti, ispirando, cane a faccia in giù un paio di respiri qui, e poi ispirando, gamba sinistra in alto, ispirando, ginocchio alla fronte, spalle sopra i polsi piede sinistro, vicino alla mano sinistra, ispirando braccia in alto, prima di fare qualsiasi cosa controlliamo la posizione, bacino rivolto in avanti, ginocchio sinistro piegato, siete sulle punte del piede destro se c'è bisogno piegate leggermente il ginocchio destro, forti nelle gambe, ispirando allungate bene aprite un pochino le scapole dietro di voi, fate ancora un bel respiro qui, poi girate le mani, palmi rivolte in alto ispirate, chiudete le mani, aprite le braccia cactus, ispirando chiudete, ispirando aprite, ispirando salite ispirando aprite, ispirando aprite, ispirando aprite, ispirando salite, ultima volta, ispirando aprite, ispirando chiudete ispirando aprite, ispirando braccia in alto, ispirando allungate bene, portate le braccia davanti a voi la destra, sopra la sinistra, incrociate le braccia, palmi si toccano, gomiti in alto e da qui cominciate a portare il busso in avanti, quando siete pronti sollevate la gamba dietro veniamo nel guerriero 3, stiamo qua qualche respiro, spingete sempre con i gomiti per aprire le scapole dietro di voi piano piano, piano, ispirando, sollevate il busso, non toccate terra col piede destro, portate il ginocchio destro al petto lo incrociate sul sinistro, incrociate le gambe, trovate la vostra stabilità, sedetevi indietro col bacino piano piano, spingete in alto con i gomiti, aprite bene le scapole e poi piano piano riportate il ginocchio al petto, rivenite nel vostro affondo alto, spingete ancora un attimo i gomiti in alto ispirando, ispirando, lasciate andare, braccia al cielo, ispirando, mani dietro la schiena, incrociate le dita ispirando, chiudete le scapole, aprite bene il petto ispirando, prima le mani al cielo, ispirando, mani a terra, trovate la tavola stiamo qua, respingete bene il tappetino, peso su tutta la mano, separate le scapole ispirando, spalle oltre i polsi, ispirando, chaturanga, fermatevi a metà strada ispirando, distendete le braccia, il bacino viene vicino ai polsi, aprite il petto ispirando, cane a faccia in giù siamo pronti per continuare con il nostro flow aggiungendo nuove posizioni ispirando, gamba destra in alto ispirando, ginocchio al petto piede destro vicino alla mano destra ispirando a fondo alto mani rivolte in avanti ispirate qui e poi portate le braccia aperte a cactus le chiudiamo davanti a noi apriamo bene riportatele al cielo portatele davanti a voi braccio sinistro sopra al destro trovate le braccia incrociate dell'aquila ispirate qui ispirando veniamo nel nostro guerriero tre con le braccia incrociate ispirando salite, ginocchio sinistro al petto trovate per un istante l'aquila sedetevi bene braccia in alto gomiti in alto sciogliete piano piano torniamo nel guerriero tre aprite le braccia di lato come un aeroplano piano piano piegate il ginocchio della gamba destra toccate terra col piede sinistro mano sinistra vicino al piede destro ispirando aprite bene il braccio destro sopra la testa girate il busto verso la parete di destra da qui ci giriamo sul lato esterno del piede sinistro solleviamo piano piano la gamba destra la portiamo dietro la sinistra ispirando posizione selvaggia aprite bene il petto fate una bella ispirazione qui ispirando portate il braccio destro a terra tenete il ginocchio destro sollevato ci giriamo sul lato interno del piede sinistro il piede destro viene davanti e aprite bene braccio sinistro al cielo riandiamo nella selvaggia mano sinistra a terra piede destro dietro di voi aprite bene lo facciamo altre due volte mano destra a terra piede destro davanti a voi chi vuole può tenere il piede destro sollevato da terra e poi troviamo la posizione selvaggia ispirate qui ispirate mano destra a terra piede destro davanti a voi e poi di nuovo posizione selvaggia ultima volta mano destra a terra piede destro davanti a voi braccio sinistro sollevato e poi posizione selvaggia aprite bene questa volta veniamo in vashis tasana anche una sopra l'altra ginocchio destro al petto guardate avanti distendete il braccio destro piede destro sulla cima del tappetino apriamo in un guerriero 2 ispirate qui date un po' di break alle spalle rilassatele allungate le braccia affondate bene nella gamba davanti attivate l'addome girate il palmo destro ispirando allungate bene il lato destro del busto distendete la gamba davanti ispirando portiamo il busto al centro l'anca sinistra bella aperta mano destra in avanti allungate il busto mantenendo l'anca aperta e trovate il vostro triangolo braccio sinistro in alto guardate in direzione al braccio sinistro leggeri nella mano destra piano piano ripiegate la gamba davanti allungatevi col busto verso il lato destro del tappetino se c'è bisogno usate un mattoncino quando siete pronti venite in arda chandrasana anca aperta come nel guerriero 2 braccio sinistro in alto mano destra su un mattoncino o sul lato destro del tappetino guardate un punto in basso aprite bene distendete il braccio sinistro in alto piede sinistro sul fondo del tappetino allungate il collo ispirate qui piano piano iniziate a piegare la gamba destra portate il piede sinistro davanti a voi portate entrambi i piedi sulla cima del tappetino talloni che si guardano dita all'esterno troviamo malasana se c'è bisogno sostenetevi un po' più in alto col bacino i talloni toccano terra la schiena è bella dritta le ginocchia i gomiti spingono in mezzo alle ginocchia guardate avanti poi portate le mani a terra chi vuole può provare a seguirmi in un corvo stiamo facendo un lavoro sulle braccia quindi proviamo una posizione che richiede forza nelle braccia mani a terra alla distanza delle spalle sollevate il bacino venite sulle punte dei piedi cominciate a portare il peso in avanti chi vuole può mettere un mattoncino davanti all'altezza che preferisce se vuole provare a appoggiare la fronte e inizierà a sollevare i piedi venite avanti portate il peso in avanti appoggiate le ginocchia sui tricipiti allungate bene il collo e quando siete pronti sollevate prima un piede e poi l'altro attivate bene i piedi cercate di portare i talloni ai glutei e da qui come preferite ritorniamo nella nostra tavola ispirando venite avanti ispirando chaturanga ispirando cane a faccia in su ispirando cane a faccia in giù una bella respirazione qui ispirate dal naso e lasciamo andare dalla bocca ispirando gamba sinistra in alto ispirando ginocchio al petto venite con le spalle sopra i polsi piede sinistro vicino alla mano sinistra ispirando a fondo alto aprite le mani guardando avanti e con la prossima ispirazione tirate i gomiti in basso aprite il petto ispirando chiudete ispirando aprite ispirando distendete bene braccia in avanti la destra e sopra la sinistra incrociate i gomiti spingete bene i gomiti in alto trovate la stabilità ispirate venite avanti quando siete pronti troviamo il nostro guerriero 3 continuate a spingere con i gomiti per aprire le scapole e poi ispirando tenendo l'equilibrio cercate di non toccare terra con il piede destro lo portate al petto e poi andiamo a incrociarlo sulla gamba sinistra un sacco di lavoro per mantenere l'equilibrio respirate qui e poi piano piano sciogliete torniamo nel nostro guerriero 3 aprite bene le braccia di lato piano piano iniziate a piegare il ginocchio sinistro e portate il piede destro a terra ispirando braccia in alto ispirando la mano destra vicino al piede sinistro braccio sinistro in alto aprite bene il petto verso la parete di sinistra rimanete con la gamba davanti a 90 gradi e da qui ci giriamo sul lato esterno del piede destro sollevate il sinistro portatelo dietro di voi sulla punta dei piedi ispirando posizione selvaggia restate qua un paio di respiri prima che passiamo alla nostra transizione ispirate ispirate mano sinistra a terra sollevate la destra ginocchio sinistro al petto il piede davanti a voi ispirate qui ispirate torniamo nella posizione selvaggia ispirate aprite mano sinistra a terra se volete il piede sinistro resta sollevato da terra e poi di nuovo posizione selvaggia altre due volte ispirate mano sinistra a terra distendete la gamba sinistra e poi posizione selvaggia ispirate mano sinistra a terra distendete la gamba sinistra braccio destro in alto e poi posizione selvaggia un'ultima volta mano sinistra a terra distendete il piede sinistro davanti a voi mano destra a terra posizione selvaggia questa volta veniamo in vashis sasana ginocchio sinistro al petto distendete il piede sinistro e lo portate sulla cima del tappetino piede destro di taglio guerriero 2 abbiamo fatto un bel lavoro sulle spalle penso che le sentirete scioglietele bene adesso qui per sciogliere le spalle andiamo a lavorare sulle gambe un attimino portate il respiro di nuovo al suo ritmo normale affondate bene nella gamba davanti peso su entrambe le gambe girate il palmo sinistro ispirando guerriero rovesciato allungate bene il lato sinistro del busto distendete la gamba davanti torniamo al centro l'anca destra è bella aperta distendete il braccio sinistro la gamba sinistra è dritta ma non iperestesa quindi se c'è bisogno piegate leggermente il ginocchio allungate bene il busto tenendo il bacino dov'è con l'anca bella aperta e poi la mano sinistra sulla tibia sinistra braccio destro sopra la testa guardatevi le dita della mano destra leggeri nella mano sinistra la potete sollevare perché tutta la forza viene dal cuore piano piano ritornate nel guerriero due tenetevi il mattoncino sul lato sinistro del tappetino se vi serve cominciate ad allungarvi e piano piano sollevate la gamba destra troviamo Ardha Chandrasana aprite bene il petto gamba destra sollevata allungate allungate il collo trovate tutti i punti di allungamento la destra la mano destra la testa il piede verso la parete di fondo vi allungate in tutte le direzioni piano piano iniziate a piegare la gamba davanti piegate il ginocchio destro lo portate sulla cima del tappetino talloni che si guardano punte dei piedi all'esterno veniamo in Malasana riproviamo per chi ha voglia ancora una volta al nostro corvo vi ricordo di tenere un mattoncino un cuscino davanti se sono le prime volte volete provare a portare il peso in avanti perché sbilanciarci in avanti è il segreto del successo per trovare l'equilibrio solo che all'inizio è un po' pauroso quindi potete appoggiare la fronte su un mattoncino allungate bene e anche nella transizione chi riesce io sto provando da poco tempo a fare questa transizione può provare a saltare direttamente nella tavola ci vorrà un pochino quindi andate per step provate quello che vi sentite piano piano portate le mani a terra distanza delle spalle venite sulle punte dei piedi potete anche unire i talloni ispirando sollevate il bacino portate il peso avanti sentite il peso che va sulla punta delle dita su tutte le mani poi appoggiate le ginocchia sui tricipiti iniziate sollevando un piede e poi l'altro le dita dei piedi sono attive questo è un altro segreto talloni che vanno ai glutei e da qui chi vuole salta nella sua tavola anche io sono in fase sperimentale con questa transizione ispirando venite in avanti ispirando chaturanga ispirando cane a faccia in su ispirando cane a faccia in giù andiamo a completare questo flow con un'ultima parte ispirate qui spingete bene il bacino al cielo e poi piano piano guardate in avanti fate forza sulle mani iniziate a tirare i gomiti uno verso l'altro e iniziate a scendere con entrambi i gomiti verso terra contemporaneamente finché i gomiti non toccano terra e da qui camminate con i piedi potete anche piegare le ginocchia in avanti spingendo il busto invece verso la parete dietro di voi lo sguardo in mezzo ai gomiti stiamo qua qualche respiro siamo praticamente in un cane a faccia in giù sui gomiti che si chiama delfino dolphin pose e da qui più avanti si può provare la verticale sui gomiti pincia mayurasana che proveremo a fare insieme prima della fine del challenge nella settimana tre mani attive attenzione alla transizione che faremo ora ispirando guardate avanti piegate le ginocchia e venite nella vostra tavola ispirando chaturanga ispirando cane a faccia in su ispirando cane a faccia in giù faremo questa transizione altre due volte prima di completare la parte più attiva di questa classe spingete il bacino in alto ispirando guardate avanti ispirando chiudendo i gomiti piano piano li portiamo entrambi a terra spingete il busto indietro mentre camminate con i piedi in avanti restiamo qua un paio di respiri le mani sono alla distanza delle spalle guardate avanti piegate le ginocchia ispirando tavola ispirando ispirando chaturanga ispirando cane a faccia in su ispirando cane a faccia in giù un'ultima volta non mi odiate all'inizio queste transizioni sono brutali se c'è bisogno mettete le ginocchia a terra o rimanete nel vostro cane a faccia in giù oppure rimanete nella versione che preferite potete anche mettere le ginocchia a terra e venire nella posizione del bambino un'ultima volta ispirando guardate avanti ispirando piano piano gomiti a terra avvicinate i piedi spingete col busto verso la parete dietro di voi guardate avanti piegate le ginocchia ispirando tavola ispirando chaturanga ispirando cane a faccia in su ispirando cane a faccia in giù questa transizione è finita ispirando venite nella vostra tavola portatevi sul gomito sinistro giratevi di lato troviamo una tavola laterale sulla parte destra cioè sulla parte sinistra braccio destro in alto stiamo qua quattro respiri bacino verso l'alto e poi cambiamo parte venite sul gomito destro spingete bene il bacino in alto braccio sinistro in alto restiamo qua circa cinque respiri e poi piano piano anche il gomito sinistro viene a terra tavola sugli avambracci ispirate e portate il bacino a terra gomiti sotto le spalle aprite bene il petto aprite bene le clavicole guardate avanti ce l'abbiamo fatta abbiamo finito la parte intensa di questa lezione il lavoro muscolare sento le spalle le braccia in fiamme però adesso andiamo un pochino a distenderci quindi un bel sorriso ce l'avete fatta ispirate espirate e portate la fronte a terra le mani prima sotto le spalle e poi le portate sul vostro sacro le incrociate tenete i gomiti piegati i palmi si toccano ispirando iniziate a distendere le braccia mentre le distendete sollevate il petto fronte da terra allungate bene attivi nei piedi respirate e piano piano portate la fronte a terra rilassate le braccia ai lati ispirate bene dal naso aprite la bocca lasciamo andare tutta la tensione tutto il lavoro adesso pensiamo a come allungare rilassare distendere aprite le braccia a croce portate la mano sinistra sotto la spalla sinistra spingendo con la mano sinistra iniziate a ruotare sul bacino portate il piede sinistro dietro la gamba a destra la mano sinistra rimane sotto di voi il braccio destro rimane disteso state ruotando sulla spalla a destra quindi andate alla profondità che sentite vogliamo sentire una sensazione di profondo allungamento nella spalla e piano piano sciogliamo tornate al centro ridistendete entrambe le braccia andiamo dall'altra parte braccio destro sotto la spalla destra spingendo con la mano iniziate a ruotare sul bacino portate la gamba a destra dietro di voi il braccio sinistro allungato il volto a terra sul vostro lato sinistro cominciate a ruotare il bacino quanto sentite se sentite la sensazione è molto forte venite un pochino avanti se invece sentite che c'è spazio spingete un pochino indietro rilassati i muscoli del viso non c'è bisogno di tre penere tensione e piano piano tornate al centro ancora un secondo le braccia ai lati distese a croce piano piano mettete le braccia sotto le spalle sollevate leggermente il busto per far passare il braccio sinistro sotto di voi quindi vi appoggiate sulla spalla sinistra e portate il braccio destro davanti fate una specie di X quindi il braccio destro verso sinistra braccio sinistro verso destra e rilassate il mento sopra le braccia piano piano sciogliete e cambiamo il braccio il destro viene più vicino al petto il sinistro sopra e rilassate bene piano piano andiamo a sciogliere portate le braccia sotto le spalle piano piano saliamo ci sediamo sui nostri talloni rilassate bene le spalle fate qualche rotazione delle spalle e poi prendete il braccio destro portatelo davanti al petto aiutatevi col sinistro a tirare bene il braccio verso il petto distendete il braccio destro come abbiamo fatto inizio lezione aprite il palmo della mano il palmo rivolto in avanti aiutatevi con la mano sinistra a tirarlo gentilmente verso di voi a tirare le dita della mano destra verso di voi e poi sciogliete fate qualche movimento con le braccia prima di passare al sinistro distendete il sinistro davanti a voi mantenete le spalle rivolte in avanti col braccio destro vi aiutate a tirare il braccio sinistro indietro sentite lo stretching l'allungamento nelle spalle nella parte anche posteriore piano piano sciogliete distendete il braccio sinistro palmo rivolto in avanti con la mano destra vi aiutate a tirare le dita della mano sinistra verso di voi e poi sciogliete chi ha un mattoncino oppure due ancora meglio lo può andare a prendere e portarli sulla cima del tappetino se non li avete non importa come al solito appoggiate i gomiti a terra appoggiate i mattoncini se li avete i gomiti vengono sui mattoncini camminate un pochino indietro con le ginocchia in modo da allungare bene la zona delle spalle le mani si toccano e piano piano lasciate che il petto cada verso terra la sensazione dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto sarà sicuramente molto intensa la sto sentendo imparate a distinguere quando l'allungamento anche se è intenso fa bene oppure se state sentendo un dolore che vi dice di fermarvi e non andare oltre piano piano con la pratica impariamo a connetterci col corpo e imparare a distinguere i segnali che ci manda al corpo e respiri profondi piano piano avvicinatevi con le ginocchia uscite dalla posizione con calma spostate i mattoncini se li avete utilizzati andiamo a sederci e troviamo la nostra gomukasana come vedete ripeto spesso le stesse posizioni perché ci stiamo concentrando su imparare bene tutta una serie di posizioni se riuscite portate le ginocchia una sopra l'altra se il ginocchio della gamba a destra si solleva potete usare magari un mattoncino sotto per supportarlo oppure trovare una posizione a gambe incrociate cercate bene di portare le ginocchia una sopra l'altra gli ischi entrambi a terra busto centrale inspirando braccio in alto allungate bene e poi andiamo a piegare il gomito del braccio sinistro e aiutandovi con la mano destra tiratelo verso di voi tiratelo verso il centro della testa mantenete sempre la schiena lunga e da qui portate la mano destra se volete se riuscite sotto la schiena prendetevi le dita delle mani tirate in alto col gomito sinistro in basso col gomito destro e se volete con la testa potete gentilmente spingere nel vostro gomito sinistro per aprire ancora un po' di più e la sensazione è intensa se sentite che c'è ancora un pochino di spazio e se riuscite a tenere le dita incrociate ispirate ispirate e ispirando venite avanti portate il petto sopra le vostre cosce rilassate bene respiri profondi ispirando tornate al centro sciogliete piano piano le braccia le muovete potete fare qualche rotazione delle spalle prima di andare a cambiare quindi sciogliamo le gambe andiamo a portare il ginocchio della gamba sinistra sopra la gamba destra anche qui se vedete che il ginocchio si solleva utilizzate magari un mattoncino o incrociate le gambe ischi a terra ispirando braccia in alto allungate bene come prima cosa e poi piegate il gomito sinistro col braccio no il gomito destro scusate col braccio sinistro lo tirate verso il centro chi vuole può portare il braccio sinistro sotto la schiena prendere le dita e tirare e tirare bene allungando il gomito destro verso l'alto gomito sinistro verso il basso spingete magari con la testa gentilmente il vostro gomito destro per aprire ancora un pochino di più la zona delle spalle e se c'è spazio ispirate e ispirando venite avanti ispirando sollevate sollevate bene sciogliete piano piano sciogliete bene le braccia fate qualche rotazione delle spalle e poi sciogliete le gambe ci riportiamo sulle ginocchia allungate bene le braccia davanti a voi lasciate che le mani scivolino in avanti alla distanza delle spalle portate il bacino le anche sopra le ginocchia allungate bene lasciate che il mento tocchi terra se riuscite anche il petto piano 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 portate il bacino a terra venite sui gomiti ispirando ancora un secondo apritevi nella vostra sfinge tirate i gomiti indietro aprite bene il petto aprite le clavicole portate la fronte a terra mano sotto le spalle ci solleviamo incrociamo le gambe e andiamo a sederci col petto rivolto in alto e piano piano ci sdraiamo a terra ginocchia al petto trovate il vostro apanasana a questo punto dopo un po' di stretching dovreste aver recuperato un po' di energia un po' di forze vi ricordo sempre di essere orgogliosi di voi stessi non solo avete fatto una classe molto dura ma avete anche superato nove giorni di yoga tutti i giorni è di certo non uno stile facile quindi se mai avete il dubbio di non riuscire in qualcosa ricordatevi quello che state facendo qui sul tappetino distendete la gamba destra trattenete il ginocchio sinistro ispirando e poi andiamo in rotazione portate il ginocchio sinistro verso destra aprite bene le spalle questa è un'altra opportunità è vero che qua ci concentriamo sulla torsione della spina dorsale ma è un'altra bella opportunità per aprire bene le spalle cercate di portare la spalla sinistra a terra respiro respiro fluido ispirando tornate al centro portate le gambe a toccarsi trattenete questa volta il ginocchio destro distendete la gamba sinistra ispirate ed espirate fate una torsione verso sinistra aprite bene sguardo in direzione della mano destra approfittate per fare una torsione nella spina dorsale ma anche per aprire bene le spalle restiamo qua qualche respiro stavo pensando la cosa divertente visto che sono in questo challenge insieme a voi anche io sono stanca fisicamente il mio corpo lo sente e prima di venire a fare la lezione sentivo proprio una stanchezza nel corpo poi appena sono salita sul tappetino ho sentito una grandissima energia non so se a qualcuno di voi succede improvvisamente la stanchezza è sparita piano piano tornate al centro portate le ginocchia al petto chiudetele bene puntate le dita dei piedi occhi chiusi stringete forte forte contraete un po' tutta la muscolatura inspirate profondamente portate il respiro nel ventre nei polmoni anche nella parte posteriore del corpo fino in cima alla testa e poi aprite la bocca e lasciate andare troviamo il nostro shavasana shavasana se c'è bisogno se avete freddo copritevi se volete mettere un cuscino sotto la schiena fate qualsiasi cosa vi faccia sentire totalmente comodi spalle rilassate palmi rivolti verso l'alto rilassate completamente i muscoli del viso del collo corpo abbandonato per qualche istante potete lasciare il vostro stato fisico visto che il corpo non ha bisogno di muoversi di fare nulla potete lasciarvi andare dove volete Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Polsi, braccia, chi vuole allunga le braccia sopra la testa, una bella ispirazione, allungate bene. E espirando ginocchia al petto, chi vuole viene su un lato, si riposa qualche istante, prima di piano piano tornare in una posizione seduta. Gambe incrociate, ischi a terra, spina dorsale lunga, mani al cuore. Tenete gli occhi chiusi per un istante. Assorbite tutto il lavoro, tutta la vostra pratica. Come sempre, ringrazio ringrazio ogni singolo istante. Vi ringrazio infinitamente per essere stati con me anche in questo giorno 9, che so è uno dei più difficili, ma la prossima volta che faremo braccia e spalle sarà tra una settimana. Quindi, congratulazioni ce l'avete fatta per questa settimana. Ci vediamo domani col nostro giorno 10, dove faremo un flow full body, che so molti di voi apprezzano particolarmente. A domani, namaste.